segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora per chiarezza non è che l'ha scritto dopo il 25 settembre l'ha scritto prima e poi però io quando l'ho sentito ho detto accidenti poteva essere un commento preciso a quello che è accaduto perché un po la sinistra sembra aver perso le parole la sconfitta viene da molto lontano viene dalla progressiva perdita di radicamento nel mondo del lavoro e nella questione sociale viene da una subalternità a quella mitologia della governabilità che fa immaginare che l'unica cosa che conta è governare governare non diventa lo strumento per cambiare la vita per cambiare il mondo diventa una finalità in sé ecco credo che le ragioni della sconfitta vadano indagate nella soggezione che la sinistra ha avuto nei confronti della rivoluzione liberista di questa diciamo incredibile redistribuzione della ricchezza del potere a vantaggio di chi sta più in alto e a svantaggio di chi sta più in basso la sinistra è diventata quasi anaffettiva nel senso che non è stata più percepita come quella bandiera quella parola chiave ma è un problema di uomini e donne che prendono le decisioni che scelgono la linea o è un problema più ampio di classe dirigente di pensiero è un problema di pensiero si è pensato che la globalizzazione volgesse il mondo in una direzione di attenuazione dei conflitti di generalizzazione del benessere e abbiamo visto che è stata globalizzazione dei mercati ma non globalizzazione dei diritti della globalizzazione dei mercati in tante parti del mondo è giunta in maniera minacciosa come una riduzione della diciamo capacità contrattuale nel in questo mondo villaggio globale la sinistra ha avuto un atteggiamento acritico nei confronti della modernità cioè quasi di soggezione questo è il punto non abbiamo non siamo stati più diciamo i quelli che tutelavano le case le classi meno abbienti il tema fondamentale quando un miliardario molto discusso e molto discutibile per ogni aspetto della sua vita come donald trump diventa il vendicatore dei poveri e degli operai americani beh vuol dire che c'è qualcosa qualcosa di grave e così per l'italia cioè 25 settembre arriviamo a quello che è successo si va a votare e vince